Chiara Ferragni sembra aver preso una direzione molto particolare sui social media, con alcuni post che hanno scatenato l'interesse dei suoi follower In particolare, i recenti video caricati su TikTok, sembrano contenere messaggi nascosti indirizzati al suo ex marito, Fedez La strategia di Chiara sui social, la famosissima imprenditrice digitale, sempre attiva e popolare su tutti i social network, ha iniziato a condividere una serie di video divertenti su TikTok che stanno rapidamente diventando virali Molti di questi contenuti sembrano contenere int e audio che i suoi seguaci interpretano come allusioni molto chiare a Fedez Il messaggio critico di Chiara. Nell'ultimo video condiviso da Chiara, si parla di relazioni e si sente chiaramente un audio che recita. Poi all'improvviso ho smesso d'amarla, da un'ora all'altra Alle 8 di sera ero innamorato pazzo, alle 9 e tre quarti non me ne importava più niente Era finita, ero guarito Queste parole hanno scatenato numerosi commenti e reazioni, con un utente che ha sottolineato, non so voi, ma per me questo messaggio urla Fedez I video intriganti su TikTok. Oltre a questo video che ha fatto discutere, Chiara ha pubblicato una serie di altri contenuti altrettanto interessanti Un altro video che ha attirato l'attenzione è stato accompagnato dalla canzone di Giovanotti, La mia ragazza è magica In questo video, Chiara ha cercato di far intendere che sta aspettando un nuovo fidanzato, desideroso di ricevere amore e rispetto La reazione dei fan di Chiara, è evidente che Chiara stia affrontando la sua situazione personale in maniera molto creativa e scherzosa, coinvolgendo attivamente i suoi fan La reazione del pubblico è stata di sorpresa e curiosità di fronte alla sua gestione della fine della relazione con Federico Per altre notizie di gossip e intrattenimento, continua a seguire le nostre ultime novità Se desideri rimanere sempre aggiornato sulle ultime tendenze, non perdere l'occasione di iscriverti ai nostri canali social Stay tuned! Approfondimenti! Chiara Ferragni, Chiara Ferragni, è una famosa imprenditrice digitale, blogger, designer e imprenditrice italiana È conosciuta in tutto il mondo grazie al suo blog, The Blonde Salad, e alle sue collaborazioni con importanti marchi di moda È considerata una delle influencer più potenti al mondo, e ha costruito un impero imprenditoriale che include marchi di moda, accessori e uno zaino di produzione propria Fedez Fedez, all'anagrafe Federico Lucia, è un famoso rapper e influencer italiano È anche noto per essere stato giudice nel programma di talenti, X Factor, in Italia Fedez ha avuto una relazione molto pubblica con Chiara Ferragni, che è culminata nel matrimonio nel 2018 La coppia ha avuto un figlio insieme prima di annunciare la separazione nel 2021 TikTok TikTok è una popolare piattaforma di social media per la condivisione di video È diventata estremamente popolare per i video creativi, le tendenze virali e le challenge Molti utenti, inclusi personaggi famosi come Chiara Ferragni, utilizzano TikTok per interagire con il proprio pubblico in modo divertente e coinvolgente Giovanotti Giovanotti, nome d'arte di Lorenzo Cherubini, è un famoso cantautore italiano È uno degli artisti più conosciuti e apprezzati in Italia, con una lunga carriera musicale alle spalle La canzone menzionata nell'articolo, La mia ragazza è magica, è uno dei successi di Giovanotti ed è spesso associata a temi romantici e positivi Nell'articolo, si evidenzia come Chiara Ferragni stia utilizzando i social media, in particolare TikTok, per comunicare in modo indiretto con il suo ex marito Fedez e con il pubblico I video condivisi contengono messaggi che sembrano fare riferimento alla fine della loro relazione e alla loro situazione personale La reazione dei fan è stata di sorpresa e interesse nei confronti di questa nuova forma di espressione da parte di Chiara